ciao allora stranamente acquisti da wish e oggi vi mostro alcuni degli anelli che ho preso una passione per gli anelli io sfegatata infatti vedete anche questo però questo è la nomination quindi non c'entra niente però comunque sia ho comprato un sacco di anelli alcuni più carini alcuni meno ma adesso ve li mostro wish tutti a un euro si mettono nella lista dei desideri e vanno in offerta in breve tempo quindi allora vediamo un po visto che ho imparato la lezione se no non mette a fuoco facciamo così dunque il primo è questo che è carino è è un mezzo fiore con un pallino è bellino sempre in questo dito che alla fine non è questo che ce lo metto ha un bel punto luce molto carino e oltretutto è un materiale comunque sia resistente che mi piace poi altro anello questo con i due fiorellini super glitterati anche questo è un bel materiale però attenzione perché se si allarga si stringe molto spesso paura che qui si rompa comunque io gli metto la misura e una volta la misura resta fermo lì poi questo questo è stupendo ha la luna le stelline queste linee anche qui sul blu e la luna è completamente glitterata guardate che bello ecco questo è più sottile vedete quindi se si allarga o si stringe molto spesso perché si può fare allargare stringere ho paura che si rompa ma comunque sia è stupendo è davvero molto bello altro andiamo avanti se riesco a sbrogliare perché si sono incastrati eccolo qua guardate questo con le due farfalline anche questo è molto delicato comunque con le due farfalline è bello è bellissimo sempre simile oro rosa io poi sono una partita degli anelli poi questo invece con le due stelline anche questo sempre questo è semplice perché le stelline sono opache comunque guardate che bello le sto lanciando molto delicato anche questo però considerate sempre che sono da un euro quindi e l'ultimo invece che dovrebbe essere resistente ma sinceramente non mi piace più di tanto allora dovrebbe essere la testa di un gatto quindi con le due orecchiette però sinceramente non sembra cioè non non assomigliano delle orecchie da gatto cioè appena appena dalla foto era molto più carino però in compenso è resistente quindi è bellino è semplice un anellino semplice comunque per un euro va bene allora dunque questi erano tutti gli anelli che per adesso ho preso da wish ma credo che ne prenderò altri perché io sono un amante degli anelli comunque fatemi sapere se qualcuno di questi vi è piaciuto se ce l'avete già se vi interessa se è carino quali sono più carini e quali meno alcuni come ho detto la qualità è buona in altri però vi ricordo che costano un euro cioè io le ho pagate solo a spedizione da un euro quindi va benissimo e se vi è piaciuto questo video vi ho tenuto un po' di compagnia e vi ho fatto scoprire così le nuove perché no mettetemi un like e iscrivetevi al canale così non perdrete i prossimi video e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che ne carico uno alla prossima ciao ciao